ok ben ritrovati in un nuovo video oggi andremo a vedere un paio di modifiche che ho fatto oggi pomeriggio ho detto troppe volte oggi e ok in pratica quello che vi consiglio che non ho detto nello scorso video è che quando uscite dal gioco tornate allo spawn perché non so per quale motivo ma lui quando tu rientri una volta che sloghi ti ricarica nel punto in cui sei fermato quindi io vi consiglio di tornare allo spawn si esce si rientra e si ricomincia di qui oppure rimanete a casa vostra e poi ricomincerete dal di lì ok allora praticamente oggi pomeriggio ho voluto installare un plugin che effettivamente mancava ed era better rtp praticamente plugin per poter far sì che i player possano accedere al mondo di gioco ovvero questo dove siamo attualmente perché è successo un qui pro quo nel senso che io ho piazzato lo spawn in mezzo all'acqua e è vero che una volta che si join alla prima volta si viene dotati di un di un barchino per andare a esplorare dal di qui però ho visto che abbastanza meh quindi ho deciso di implementare better rtp in modo che uno viene qua parla con l'infermiera lei ti parla e in automatico ti viene vieni 3 3 porti teletrasportati in un punto random che ho deciso io l'ampiezza e la distanza e dopo dagli qui partite e iniziate ad esplorare il mondo dove farvi la casa come mi hanno detto nel video precedente qui in questo mondo vi creerete solo la casa non certo vi potete difendere dei mob e quant'altro però non si esplorerà quindi se trovate chest comunque diciamo di base in questo mondo da questo mondo non si va nel nether e nel void anche se è presente l'accesso a quei mondi lì poi lo darò più avanti nel tempo anche se tuttora ci si può andare però il mia modalità di gioco è questa qui in questo mondo nel mondo della luce chiamiamolo si costruisce solo la casa non si va in giro per bastioni per stronghold per ancient cave non si va da nessuna altra parte ok qui si costruisce solo il proprio fortino diciamo quel invece per tutto il resto invece si va tramite custode e si va nel mondo delle risorse delle risorse dove praticamente io attualmente sono in creativa dove ti spawna in un altro mondo a tempo indeterminato perché ogni tot ogni tre giorni si resetta il mondo e qui potrete fare tutto quello che vi pare perché tanto dopo tre giorni si resetta qui potete fare tutto quello che vi pare quindi potete andare nel nether potete andare nel land potete sconfiggere tutti i mostri che vi impare e recuperare le risorse che poi vi servono di là nel mondo dove avete a casa ok lo spawn ok cosa abbiamo aggiunto abbiamo aggiunto abbiamo aggiunto praticamente adesso mi sta trasportando e io sto volando abbiamo aggiunto che l'RTP abbiamo detto vi ho spiegato un po' la modalità come detto nel video precedente lo spawn è pieno di personaggi diciamo NPC a cui dovrete portare oggetti per avere altri oggetti speciali presenti e non nel mondo di minecraft e io vi consiglio vi consiglio di farli perché vi serviranno assolutamente quello che abbiamo scoperto io e Darklitz ovvero a me medesimo che tramite android non è possibile accedere al menu stat del dottore ovvero questo questo qui questo è il menu dove tu puoi vedere le tue vite le tue parti di vite e quant'altro no e i ban da android non è possibile quindi non so perché non è possibile probabilmente non è compatibile la gui di menu e quant'altro ho deciso di aggiungere oltre a mystat che è accessibile da java quindi da pc di inserire anche lo scritto ovvero questo questo qui quindi tu da android o da playstation da console quello che è tu andrei cliccare e lui ti dirà quante vite e quante parti di vita non ti fa vedere qua i ban non ti fa vedere tutto il resto non so come risolverlo giuro e dovrà guardarci però essendo ancora in alfa il gioco posso permettermi di sopra il sedere oltre a questo questo è un altro un RTP qui ho visto che da da telefono è possibile accedere completamente pensavo di non di non di non di non avere accesso ma in realtà si e forse non l'hanno accesso i player di base the hope no invece no e e niente dopo ultima cosa ieri sera non sapevo che cosa fare ho buildato un'arena qui di sotto sarà da finire sicuramente praticamente ho aggiunto una una semisfera al di sotto dello spawn e qui sotto ci ho fatto un'arena qui sotto il pvp attivo e ve la potete giocare più come più vi aggrada potete venire qui e mazzonarvi di bot e poi da lontano con gli archi l'importante è che però rimaniate sempre a questo livello qui perché sennò qui il pvp è disattivato questa scala qui qui non c'è qui c'è e basta fino al fondare qui qui è tutto pvp e niente questo è un piccolo aggiornamento di quello che è stato fatto all'interno del gioco abbiamo aggiunto l'RTP avevo sistemato come più potevo il fatto dell'estate per sapere quante viti si hanno e quante parti di vita si hanno e per il resto niente questo questo è un piccolo aggiornamento in futuro in futuro volevo aggiungere altri spawn e aggiungere altre missioni però quello lo faremo se il tempo lo vorrà detto questo grazie per la visione per entrare sul server vi cercate con chiocciola darklitch33 su telegram e vi aggiungo alla whitelist portatevi un amico o createvi un gruppo di amici perché sarà necessario per sconfiggere il gioco e non sono presenti vip non è pay to win è tutto legit è tutto gratis se qualcuno volesse può donare attraverso no niente si se uno volesse supportare questo mio progetto lo può fare per ogni contatto nel caso non è obbligatorio è molto apprezzato ma comunque non è obbligatorio per giocare quindi niente questi sono gli aggiornamenti ci vediamo alla prossima grazie a tutti